Hola, hola, raga! Come state, ragazzi? Spero tutto bene! Eccoci qua in diretta su YouTube. Spero tutto bene. Volevo mostrarvi la mia nuova felpa, se vi piace, con la grafica hola. È un po' caldo, sinceramente, per indossare, per portare una felpa, però mi piace così tanto. Appena trovo un venditore buono per vendere queste cose, anche voi potete avere una felpa o anche magari una tazza, perché mi piace molto una tazza con la mia grafica. Però ho trovato un venditore, ma sto facendo un po' di ricerca per un altro, perché voglio vedere la differenza nella qualità. Sì, appena posso, potete avere queste cose. Però questo non è l'argomento di questo video. Come potete dire dal titolo, sto per parlare di com'è quando una persona sa parlare molte lingue. Ma innanzitutto fatemi sapere, ragazzi, quelli che guardate in diretta, se riuscite a sentirmi, a vedermi bene. Io non ho fatto molta pubblicità, tra virgolette, per questo nuovo video, perché ho appena finito di insegnare ai miei studenti e mi sono detto, ma perché non andare in diretta? Perché ho avuto queste idee oggi? E mi sono detto, vorrei parlare di questa cosa, di com'è quando una persona sa parlare varie lingue, molte lingue. Com'è l'esperienza? Io non sono poliglotta, almeno io non mi definisco così, però io so parlare alcune lingue ormai e quindi io sono una persona che ama osservare questo fenomeno. Com'è? Come si sente quando una persona sa parlare molte lingue? Quindi per voi ragazzi che state guardando in diretta, anche voi che guardate più tardi, dopo questa registrazione finita, fatemi sapere anche qua sotto nei commenti, come per voi, com'è stata la vostra esperienza con molte lingue? Perché so, molti di voi non parlate solamente inglese o italiano, ma voi parlate tante lingue, come noi diciamo in francese, plusieurs langues. Allora, eccovi una cosa che volevo dire, che quando cambio fra le lingue, a volte è un po' difficile sempre parlare una lingua perfettamente, però c'è un punto, magari parlerò di questa cosa prima, perché ho messo sul mio telefono alcuni diversi punti di conversazione che volevo condividere con voi, è una cosa che ho messo un po' più tardi, però perché non ne parliamo un po' adesso. Quindi, cosa succede quando una persona confonde le lingue, no? Si può essere confuso? Praticamente sì, e vi dico sempre com'è nella mia esperienza cosa è successo, o cosa succede ancora oggi. Praticamente, quello che capita è, c'è una frase che io uso sempre in una delle lingue che so parlare, e quindi c'è un'emozione, diciamo, collegato o attaccato a quella parola, perché noi parliamo con le emozioni, non solo con parole, no? Le parole hanno significati, o le parole hanno significate, meglio dire. E quindi, quando stavo parlando l'italiano, due secondi fa, e vi ho parlato di com'è parlare molte lingue, e volevo dire plusieurs langues, plusieurs langues, a me piacciono molto queste parole un po' diverse, no? Come plusieurs, plusieurs. E non solo dire molte, ad esempio. Quindi in francese c'è questa parola, plusieurs. Onestamente non so come si dice in italiano, dovrei cercare, controllare la traduzione. Però il punto è questo, a volte c'è una parola che, non so, ha un diverso impatto, no? Ha un diverso significato, tra virgolette, non solo letteralmente, ma anche in un senso più figurativo, che ha un senso un po' più... non so come spiegarlo, so che molti di voi mi capite. Quindi, quando volevo dire molte lingue, forse varie lingue, non so, per me suonava meglio dire plusieurs, perché mi piace quella parola in francese che lo uso spesso. Però fatemi darvi più esempi, così voi potete capire esattamente di cosa sto parlando. Quindi, eccovi come io confondo le lingue che so parlare. Quindi, per quelli che non sanno, parlo inglese, la mia lingua madre, la mia madrelingua, parlo l'italiano, la mia seconda lingua, poi ho studiato il francese e adesso sto studiando il portoghese, particolarmente quello che si parla in Brasile. Quindi il portoghese brasiliano si può dire, perché ci sono delle differenze tra come si parla in Brasile e tra come si parla in Portogallo. E praticamente c'è un'espressione in italiano che uso sempre. Usa la parola banale, banale, che tanto non saprei significarlo, definirlo, meglio dire, non saprei definirlo in inglese perché non ha lo stesso impatto, no? Perché per me, so che è così anche per molti che parlano molte diverse lingue, le lingue hanno un impatto, no? Ti fa, ti dà un feeling, no? Ti dà una sensazione. Quindi, quando dico banale, non ha molto senso in inglese per me. Trivial, ad esempio, può essere. Non mi va bene questa traduzione. Comunque, quando ti dico, ah, ma so che può sembrare banale, però sono molto felice che sei qui. Non lo so. Una frase del genere. E quindi, quando io voglio dire può sembrare banale, devo dirlo per forza in italiano perché non ha lo stesso impatto, effetto in inglese. Quindi, ci sono altri esempi. Quando inizio una frase con ma, tanto non posso fare questo in inglese, non posso dire ma, I think. Ovviamente si può, però, cioè, non ha quell'impatto come quello che ha in italiano. Ma io voglio dire, ad esempio, no? Ci sono altre cose. Ad esempio, in portoghese, brasiliano, si dice che legão, che legão, per dire che figo, che figata, how cool. Ovviamente ci sono delle equivalenti, si dice in italiano. There are equivalents in inglese, in tutte le lingue, no? In italiano, che figo, che figata, che bello, fantastico, meraviglioso, tutte queste cose. Eccovi un'altra cosa. In le lingue neolatine, si può usare qualcosa come meraviglioso, no? O meravigliosa. Se vi dico, ma che meraviglia, ragazzi, che meraviglia parlare molte lingue. Noi possiamo dire questo in altre lingue. C'è merveilleux, c'è merveilleux, c'è chose là. Possiamo dire quello in francese. Anche in portoghese è meravigliosa. Che meraviglia. Non ho mai detto così in portoghese, ma immagino che si possa dire. Però, meravigliosa, si dice in portoghese, molto simile all'italiano. Sono sicuro che anche in spagnolo si può dire. Però io non posso dire in inglese how marvelous. Marvelous è una parola un po', che dire, io non uso. Si può dire, certo, però non è una parola che noi usiamo tutti i giorni. È un po' più... Non voglio dire ricercata, non voglio dire scolastica, un po' più elegante, un po' più raffinata, che dire. Quindi, una persona della mia età non dice marvelous. Magari, se io fossi nonno o bisnonno, allora lo direi, capite? Ok? Quindi, se io voglio dire, ma che legaio, che legaio, gente, quando parlo portoghese, o se dico, ma che figo, non è che ha lo stesso impatto quando lo dico in inglese, capite? Un'altra cosa. In portoghese, noi diciamo una cosa alla fine, alla fine delle frasi, che è ne, che vuol dire naue, naue. È come dire no in italiano, tipo quando dico, è bello, no? È bello, no? In inglese si può dire, it's nice, isn't it? It's nice, isn't it? Ok, va bene. Però, non è come quando noi diciamo in portoghese, è molto legale, è molto legale, quindi ci sono queste cose che hanno un impatto diverso. Un'altra cosa che io amo dire, in francese meglio dire, come noi possiamo iniziare una domanda. In francese c'è questa costruzione, se si può dire, qu'est-ce, qu'est-ce, o si dice es-ce. È come dire è-che, se ha senso in italiano. Quindi se ti dico, cosa mangi adesso? Cosa mangi? Posso dire questo anche in francese? Tu mangi qua? Ma è molto più comune dire una cosa tipo, qu'est-ce che tu mangi? Qu'est-ce che tu mangi? Per dire, cosa è quello che mangi? Che è quella cosa che mangi? Quindi è così. Quindi io trovo molto difficoltà quando parlo portoghese, voglio usare questa struttura che tanto non esiste, voglio dire, almeno da quanto io so, non si dice. Quindi io voglio dire, ma qu'est-ce che tu fai? Qu'est-ce che tu fai? Quello vuol dire, ma cosa fai? Cosa fai? Quindi ci sono delle cose che hanno questo impatto. Questo è il mio primo punto. Quindi per quelli che ci raggiungono in questo momento, wella, come state? Wella, wella, ragazzi. Tra poco queste cose saranno in vendita, però per il momento sto controllando diversi venditori, così posso vedere se mi piace la qualità. Quello che ho adesso mi piace la qualità, però voglio vedere se c'è forse una qualità un po' maggiore, se ci sono quelli minori, quindi qual è la differenza. So yeah, for those of you guys just joining us now, I've been babbling on for the last 10 minutes in Italian, talking about one of the many points that I wanted to share with you guys. But basically, this is one of the things that I love about lives. We can be so spontaneous, così spontanea, no? We can just talk about random things, go off on tangents. To go off on tangents è come si può dire in italiano dire una cosa tangentale, si dice, no? Quindi si può dire queste cose che forse non fanno parte, non appartengono al messaggio centrale, però sono altre cose, no? Quindi mi piacciono molto le live. Comunque, so what I was basically talking about is, and I'm guaranteed, I kept repeating myself with the same thing, but the point is basically, I wanted to share a little bit about what is it like when you speak multiple languages? Because now that I speak English, my native, Italian, my second language, French, and now Portuguese, Brazilian Portuguese, I've come to kind of see what it's like to be one of those people that speaks multiple languages. And the one thing that I wanted to share first was what happens when you get confused with a language. Now, there are many different ways in which we can mix up and confuse languages, but one of which that I find, that I've found, happens to me the most is when there's just a certain way of saying something in a particular language that you speak. and it just sort of has this effect. There's this emotion attached to the word that is unlike anything else in another language you say. Sure, there are equivalents, but sometimes it just doesn't have that same punch to it. It just doesn't have that same impact. So, the examples that I had given were, for example, in Italian, we can often say something like banale. Banale, if you look it up in a dictionary or if you go online to Google Translate Reverso Context, you'll find something along the lines of trivial for when we say banale. I think we could say banal in English. That is a word that exists, but it's something that you don't use every day like you could in Italian. And so, if I want to say to you like, oh, I know this may sound silly or I know this may sound stupid, but I'm so happy you're here or I know this may sound like a cliche or it may sound corny, we have these words and they all hold a certain amount of weight depending on what you're trying to say. But there's nothing quite like, for me, when I say so che posso imbrarre banale, you know? Like, I want to say something that you think maybe just sort of like everyone knows this, right? Or you may find it silly, but there's nothing quite like banale. Similarly, when I begin a sentence in Italian saying ma, ma obviously means but, but we also use it when we're beginning sentences saying ma, io, sort of just to kind of begin where we are in a sentence, just to begin a sentence, right? Sort of in English, we say, well, I may not necessarily mean well, but I'm beginning my sentence with it. Similarly, when I say so, I'm just beginning a sentence, I'm not continuing an idea necessarily. In Italian, we can say allora, dunque, you know what I mean? So we have all of these sort of things in different languages. Just like I just said right there, you know what I mean? You know what I mean? You can say that, for example, but it may not have the same impact is what I'm trying to say. Now, in Portuguese, we do something similar. We say like, sabi, sabi, at the end of what I say comes from the verb saber, which means to know. So, you know what I mean, sabi. in Italian, I could say, sai cosa intendo? Sai cosa voglio dire? Sai com'è? But yet, they're all a little different, right? So that's the thing that I've noticed, I feel, with speaking multiple languages is if you're speaking one language, particularly the whole day, right? So your mind is constantly in that word order. You're taking on that mentality, all of the cultural references, all of the things that come along with speaking a language. When you're then trying to make the switch into another or switch over quickly, sometimes it's challenging to do that because there's just a way of saying something in a particular language. There's a certain phrase that just holds that oomph to it that you can't quite get in another language. So I have a few other examples. For example, in Brazilian Portuguese, at least, because that's the Portuguese that I'm studying, to say like che figata or che figo, which means how cool in Italian, we would say che legão, che legão. Or, let's say I wanted to end my sentence with ne, with like, isn't it? So I can say e molto legão, ne? It's like e molto figo, no? See how it's even different though? Ne means no, eh? Which is like saying is it not? So isn't it? It's really cool, isn't it? But maybe isn't it doesn't have that feeling as saying ne at the end of my sentence or saying no in Italian, like avete presente com'è? No? Or giusto? Giusto is like saying right so I can say questo è questo è vero, no? Giusto? Giusto si dice così? Giusto? If I'm speaking Italian all day, giusto has a different feeling than right in English. You do it this way, right? Like it's the same, okay? You can argue it's the same. Something there is just a little different. Now another example I'll give you is in French. This is the one that I find I struggle with the most and I confuse the most when I'm trying to begin something that I'm saying. For example, to ask a question in French you have multiple ways of doing so. A very common more informal way of doing so is to begin a question with qu'est-ce que? It basically means like I can't explain it, let me just give you an example. The example I gave a few moments ago in Italian was qu'est-ce que tu manges? Cosa mangi? We would say in Italian. You could say tu manges quoi? We could say manges-tu quoi? We could do an inversion. We can do other things but qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu veux? Cosa voy? What do you want? Why would we say that in Portuguese? Você quer? Actually, I don't know how to say what do you want in Portuguese. I'd have to think about it. The point is though sometimes when I'm speaking Portuguese I want to say qu'est-ce que? And then add something. But that's French. But it just has that impact that I'm looking for. And so that's basically my first point that took me 16, 17 minutes to explain. But if any of you guys watching live have anything to share about this topic please feel free to let me know. or if you are watching the, you know, the registrazione. See? Like, registrazione feels so much better than saying the recording of this video. All right, if you're watching the recording of this video that's not what I mean though. What I mean is once the live is done and it's on my channel if you're watching this video later on let me know in the comments what you think. But just saying in Italian like se guardate la registrazione di questo video fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Right? Even now I say cosa ne pensate. I like that better than saying let me know what you think about it. Because that's not really what I mean in English. I want to know let me know what you think. I just end it there in English. Let me know what you think. In Italian fatemi sapere cosa ne pensate. That ne pensate just has a different oomph to it than it does in English. So even though we can say the same thing there's just a way of saying stuff in other languages. So per ricapitolare il mio primo punto di com'è quando si sa parlare molte lingue plusieurs langues comme je me dire en français come mi piace dire in francese questa parola plusieurs fammi vedere fatemi vedere che vuol dire esattamente in italiano. Allora fammi usare mi piace molto Reversal Context è un'applicazione e anche un sito web gratis per trovare le traduzioni in diversi contesti. Quindi adesso sto per cercare plusieurs se mi ricordo come si scrive mannaggia più molti vario parecchio questo mi piace e come dire parecchio secondo me se una persona sa parlare no varie 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 secondo me è meglio dire varie lingue se una persona sa parlare varie lingue please you're long sì questo mi piace comunque questo è il mio primo punto diciamo anche se sulla mia lista di cose da condividere con voi era l'ultima cosa ma questo è cosa che succede a me quando mi confondo con le lingue quando una persona sa parlare plus you're long varie lingue cosa succede quando noi siamo confusi no? io non sono confuso nel senso che inizio a parlare un'altra lingua mentre parlo in italiano questo di solito non succede però come potete dire quando dico una cosa in una lingua è meglio continuare in quella lingua quindi questo è quello che anche capita a me quindi io voglio iniziare con il mio punto originale di com'è quando una persona parla varie lingue so this is the first point that I had ve lo dico in inglese perché ho scritto tutte queste cose in inglese e poi ve lo faccio vi faccio la traduzione ok? so this is what I said I feel like I've joined the ranks of those who have varying levels of competency in different languages come sapete come sono no? che io posso parlare per le ore anche sono per solo una cosa per venti minuti io sono così ok ragazzi mi piace molto parlare quindi il mio primo punto non è solo un'idea molto sintetica che dire no? è un'idea molto lunga so I feel like I've joined the ranks of those who have varying levels of competency in different languages che vuol dire esattamente cercherò di fare la traduzione così all'improvviso mi sento che ormai ho raggiunto un livello di competenza ho ho raggiunto questo club questo gruppo di persone che sanno parlare molte lingue come è quando ci si entra in questo gruppo che tanto esiste nella nostra immaginazione che dire no? non è che è esattamente un gruppo di cui io devo pagare per partecipare no? quindi ormai io so com'è tra virgolette essere una di queste persone che sa parlare più di una lingua perché per tutta la mia vita sapevo parlare solo inglese e italiano le mie due lingue però poi un paio di anni fa ho deciso di uscire da questo piccolo mondo per imparare altre lingue tipo francese un po' del spagnolo un po' di greco un po' di arabo diciamo anche e adesso il portoghese però com'è? quindi io parlavo non molto tempo fa con un amico mio che sa parlare varie lingue sinceramente forse dieci ma non vuol dire che proprio lui può parlare mamma mia parlare ho detto che è portoghese che può parlare cavolo che può far mamma mia ragazzi che può parlare parlare è portoghese che può far oh mio wow 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 mamma mia ok non vuol dire che mio amico il mio amico può parlare tutte queste lingue fluentamente che lui può iniziare una conversazione adesso senza problemi no perché io ho sempre pensato così quando una persona dice io ho studiato cinque lingue io dico wow cavolo questa persona è fluente può andare subito in un altro paese per parlare queste lingue onestamente non è sempre così sinceramente non lo è perché a volte si studia una lingua ma non si usa mai quindi se la persona dovesse decidere un giorno di riprendere i propri studi ok si può si può cavare si può cavarsela si se la può se la può cavare però non necessariamente subito quindi perché io quando ho studiato l'italiano perché come sapete se avete guardato altri miei video altri miei video ho sempre saputo un po' d'italiano non ero fluente tutta la mia vita ma certe cose già sapevo quindi quando poi ho deciso finalmente di studiare la lingua per forza per studiare la grammatica tutte queste cose era il mio mondo era tipo il mio primo amore che dire quindi io non vedevo niente che la lingua italiana quindi volevo parlare l'italiano come un italiano quindi poi quando ho deciso di studiare il francese ho usato quella stessa mentalità che non non mi bastava solamente saper presentarmi dovevo parlare come un francese e quindi non so veramente di aver raggiunto quel livello ok direi di no però il punto è che poi quando ho iniziato a studiare il portoghese mi sono detto ma guarda mi basterà anche solamente dialogare con qualcuno stare qui seduto davanti a qualcuno fare una piccola conversazione parlare un pochettino di come sto che faccio oggi da dove vieni avere un livello a uno mi basta e quindi quando finalmente ho avuto questa che dire this revelation right rivelazione non penso che si dica in italiano però quando ho avuto questa idea quando mi è venuta in mente ho detto ma cavolo allora questo è com'è per quelli che sanno parlare molte lingue che va bene se non siamo fluenti ad un livello c2 di ogni lingua non è importante avere un c2 in ogni lingua che sappiamo parlare possiamo semplicemente parlare un pochettino va bene possiamo guardare qualcosa magari capire 50% va bene 50% meglio dire quindi per ricapitolare l'inglese per fare la traduzione e cercherò di parlare un po' più lentamente così mi capite quelli che stanno studiando l'inglese si può usare in questo contesto per dire qualsiasi cosa o qualsiasi cosa volete forse non ha senso forse so what have you but what I've come to understand and also as I was talking to one of my friends not too long ago who knows multiple languages and I said to him well what what language is the easiest for you to speak in and it was only one of maybe the ten or something that he can speak and so that sort of was when I had that aha moment as we say an aha moment is when you go aha ok ho capito finalmente that's an aha moment si fa dire aha che è un'esclamazione che noi diciamo per dire ho capito così so I had this aha moment where I was like ok that makes a lot of sense because when I was learning Italian that was like my first love I couldn't see anything beyond Italian that was my world and so when I was first studying it I said I have to speak this language like an Italian there's no way out that's it and I really made it my goal and I'm really happy that I decided to do that because I do feel perfectly bilingual probably if I spent an extended period of time in Italy maybe a few months a few years I would be even better but because of where I am geographically obviously you know there are going to be some limits to what I can do but when I started learning French which was the first language that I really decided to learn outside of these languages that have to do with my family and with my life if you will so I said well let me learn another language so when I learned French I went into it with that very same mentality I need to speak this language like a Frenchman I mean to some extent yes and to a large extent no so you know what I mean it's difficult because you know I had to make space from my Italian studies to do French so I did good but I've calmed down a little bit from it and I've kind of been like look I reached a level where I could go travel to a place carry out my everyday life in that language I know enough so then I moved on to Portuguese and what I felt when I first started learning Portuguese was I'm okay with a level A1, A2 that's fine I don't have to be a perfect native Brazilian right or native person from Portugal I can just know it enough to get by as I said in Italian cavarsela cavarsela would be to get by picture the image of like to get by you're just sort of like not necessarily scraping by but you're kind of like digging because like cavare has that sort of idea so basically what I now understand is that when people say that they speak multiple languages they're not necessarily fluent quote unquote they're not necessarily native status but they could get by if they brushed up on it they could watch something maybe understand 50% and so I sort of feel like that's okay I like that idea I think coming from that more intense if you will mentality of saying I must speak Italian like an Italian you know that was a lot to put on oneself it's not necessary to put the bar so high as we say not really necessary but looking back I'm very happy I had that mentality because it was all systems go that just means all of my resources to Italian that's it and so I'm happy I did that because I'm very happy with my level I do feel perfectly bilingual and fluent C2 whatever but I realized even though originally I wanted that with French it's okay if I'm not with Portuguese it's okay if I'm not and so then going into my next point you can you can learn another language and not speak it fluently you could just be curious in knowing more about the people of that language and so that is what's driving you to want to study that language so here are some of the things I thought of ad esempio questo è il mio prossimo punto che a volte studiamo le lingue non necessariamente perché vogliamo parlare le lingue come in madrelingua ma semplicemente perché c'è una curiosità c'è una cosa che ci attira e quindi noi vogliamo sapere più di queste persone di questo popolo di questo mondo di questo paese non importa ad esempio io vedo spesso quelli che studiano l'italiano spesso lo studiano per vari motivi però alcuni sono sono i discendenti di migranti italiani nel mio caso io vengo da una famiglia italiana quindi ho scelto l'italiano perché fa parte alla mia vita già già era presente quindi mi sono detto perché non saper parlare questa lingua come gli italiani come quelli miei parenti no? quelli della mia famiglia però ci sono quelli che amano ad esempio opera penso si dice opera in italiano quelli che amano arte architettura quelli che amano la religione quelli che amano il cibo italiano il cinema italiano ci sono molti motivi per cui una persona decide di studiare l'italiano quindi forse una persona che ama l'architettura vuole studiare l'italiano così può studiare le opere dai tutti i capi lavori capolavori che ci sono in Italia no? quindi ci sono vari motivi ad esempio una persona forse vuole studiare il portoghese brasiliano perché ama molto il carnevale che loro fanno lì o forse una persona vuole studiare francese perché ama il vino francese e vuole studiare come si fa ama i formaggi e the charcuterie charcuterie francese i salumi francesi o forse per me io ero molto curioso di sapere come funziona il mondo bilingue in Canada tanto io vengo di Nord America e volevo capire ma aspetta c'è questo nostro vicino che vicino intendo il paese e loro parlano due lingue ci sono due lingue federali due lingue che si usano in questo contesto ma come funziona quindi eccovi una cosa che mi ha dato molta ispirazione molta motivazione per studiare questa lingua poi un'altra cosa forse chi vuole studiare l'inglese ama la monarchia inglese pensa ogni volta che c'è questi matrimoni in tv ma che figo io voglio studiare l'inglese così posso vedere questo matrimonio in lingua originale no o forse una persona vuole studiare giapponese perché ama anime e manga non so esattamente come si pronuncia ma anime diciamo in inglese tipo questi cartoni animati no ci sono dei vari motivi per cui una persona studia le lingue e quindi questo viene sempre al mio punto o questo mi fa arrivare al mio punto che dico sempre che è le lingue sono non so mai come pronunciare questa parola they are interdisciplinary interdisciplinati penso che si dice così fammi trovare interdisciplinary vediamo interdisciplinary ok interdisciplinari le lingue sono interdisciplinari possiamo possiamo amare qualsiasi argomento e trovare un posto per noi nello studio di queste lingue quindi c'è sempre una cosa da scoprire da amare tutte queste cose quindi se una persona amara amara ama l'opera forse vuole studiare l'italiano così può cantare come uno che sa cantare le opera così no almeno in inglese si dice opera così so languages are very interdisciplinary so just to do adesso faccio la traduzione di ciò che ho appena detto e tanto non sarà mai una traduzione super perfetta perché no parlo così informalmente che dire no non è che ho un testo qui davanti a me quindi scusate se non dico una traduzione perfetta scusami so the thing with languages and why we choose to study them there are varying reasons as to why we choose to study one language or another for example someone may choose to study italian because they come from an italian family like me i have italian heritage italian is something that has always played a part a role in my life so i figured why not learn the language so i could speak like everyone else in my family some people want to learn italian because they like opera they like art architecture religion italian food all of these things that play a part play a role have something to do with the italian culture may drive someone to want to learn it another thing could be let's say if someone wants to learn brazilian portuguese maybe they really like jujitsu which if my memory serves me correctly is something that they do or capoeira capoeira they're these sort of martial arts kind of things that exist in brazil maybe you want to learn it for those reasons maybe you're really curious to learn more about carnaval and you want to know why they do it what is it about so you study portuguese for that reason or maybe you like french wine french cheeses french charcuterie their meats their salumi so you decide to study french so that you can learn about these things in the original language maybe you really like the english royalty you love seeing on television when they have the births of a new child a new heir to the throne you love the queen you love watching the weddings and so you say how cool would it be to watch these weddings in their original language or watch english language films maybe that is what's driving you to learn english or maybe you really love japanese anime and manga and so or i want to always say magna but i think that's wrong and so maybe you you know you love things like pokemon and you say i want to watch pokemon in its original language you know so you decide to study japanese the thing with languages is they are very interdisciplinary which means they go into every single field that exists because language is how we communicate right so the thing is you can find a place for yourself in any one of these languages in any language really and then you continue to make new discoveries as time goes on that's what's so cool about it so for anyone just joining us now by the way i'm sharing a few points on what it's like to be somebody that speaks multiple languages because i feel now at this point knowing four languages i'd like to think fluently that i kind of understand what it's like now because for all of my life it was just english and italian that was it the moment i stepped out of that and went into french a little bit of spanish and now portuguese i kind of understand how it works so here's another thing that i want to bring up is if you are looking to have just a basic level of a language you don't have to study it for years to arrive at that place okay primo parlo in italiano poi faccio la traduzione okay i'm going to first explain this in italian and then i'll do the translation in english so per studiare una lingua non bisogna passare gli anni a studiare le lingue tu puoi decidere se tu vuoi avere un livello a due in inglese non bisogna passare degli anni a studiare questa lingua forse un anno meno di un anno ad esempio particolarmente se parliamo delle lingue che sono mutually intelligible come diciamo in inglese non mi ricordo la traduzione in italiano mutually intelligible vuol dire se una persona parla l'italiano non è difficilissimo capire lo spagnolo portoghese francese o leggere queste lingue no perché le lingue derivano dallo stesso posto dal latino quindi non è difficilissimo per un italiano di spostarsi in spagna e poi imparare la lingua così no stando lì parlando con la gente studiando un pochettino la grammatica no perché tanto se in spagna usano il verbo tener per dire avere non è che è difficilissimo per noi tanto tenere vuol dire to keep ok se una persona mi dice quantos años tienes ok quanti anni hai quanti anni tiene tanto nel dialetto di mia famiglia si dice quant'anni tieni tu quant'anni tieni quindi io sono cresciuto pensando ah ma che figo che si usa tenere in italiano per dire avere come in spagnolo perché studiavo il spagnolo nelle elementari e poi ho imparato che questo è più dialetto che dire più la lingua napoletana quant'anni tieni e quindi però questa è un'altra cosa fighissima che io poi posso usare questa conoscenza per per aiutarmi con le altre lingue comunque voglio dire se se studiamo queste lingue come me che tanto io studio le lingue neolatine quando ho studiato il francese non ci è voluto tantissimo tempo per almeno avere un livello a due no forse pochi mesi lo stesso vale per il portoghese ormai lo studio da non so sette otto mesi ok io adesso se mi siedo davanti ad un persona di Brasile non è difficilissimo trovare le parole no non è difficilissimo parlare all'inizio era veramente difficile con il francese non ho non ho affrontato tanta difficoltà con il portoghese è un'altra storia mi sono trovato veramente in difficoltà era difficile per me imparare questa lingua e non so perché ormai me la cavo benissimo direi e io posso dialogare con la gente però all'inizio no ho trovato il francese molto più facile però ormai cosa è successo perché le cose sempre cambiano no durante questo percorso questo cammino adesso è molto più facile pronunciare le parole portughesi che o sì portughesi che francese tipo ieri stavo parlando con un mio amico francese era difficilissimo parlare delle cose in francese non voglio dire difficilissimo forse ho esagerato un pochettino però era più difficile che parlare portoghese perché portoghese è molto più simile all'italiano dal punto di vista della pronuncia no quindi è fighissimo come queste cose cambiano o succedono quindi voglio dire per me studiare il portoghese dedicare sette otto mesi così posso finalmente fare una piccola conversazione parlando della vita in america come la vita in brasile queste cose che forse sembrano banali ecco che tanto che male c'è no sette otto mesi non è grande tempo quindi ora capisco perché una persona sarebbe se si può dire inclinato perché in inglese si dice now I can understand why someone would be inclined to just say ok I learned portuguese I'm gonna move on ora capisco perché una persona direbbe ah ma io già so parlare portoghese l'ho studiato per otto mesi adesso vado a studiare arabo anni fa io ti avrei detto ma ma che stai a dire no ma ci vogliono anni per studiare le lingue questo è vero non è falso è vero però dipende quale livello vuoi avere vuoi avere un livello c2 ok devi passare gli anni a studiare questa lingua vuoi vedere vuoi avere un livello a 1 a 2 pochi mesi sì ci sta ok va bene quindi finalmente capisco perché sai com'è io sono una persona un po forse troppo letterale in questo rispetto che io io voglio capire ma cosa intendi perché spesso vedo della gente che dicono queste cose io parlo varie lingue io dico ma ma come perché io qui studio inglese italiano francese portoghese difficilissimo di dividere questa non è una parola divise in francese io dico sempre to divide in english è difficile a dividere ecco è difficile dividere il mio tempo per dedicare allo studio per dedicare i miei studi e le mie forze a tutte queste lingue quindi io ho detto ma cavolo come voi fate ah ma no perché l'ho studiato per otto mesi poi ho smesso io dico tu puoi dire allora in questo contesto che tu sai parlare la lingua sì certo ma io non lo capivo prima io non ci capivo niente di questo argomento so basically now I will do the english translation the thing was prior to me knowing multiple languages when people would say oh I can speak five languages I'd be like oh and how much time did you spend studying them people would say oh like a few months under a year I could speak Portuguese and I'm like what are you talking about you need to spend years I studied Italian exclusively for 10 years prior to me even considering that I was bilingual in Italian I would still tell people oh I I can get by in Italian it's not that good you know what I mean like I had I set the bar really really high I was very much a perfectionist now I've learned to kind of be a little bit more easy if you will when it comes to these things but basically I never understood that but now I get it because you don't have to have a level C2 in every language that you study if you want to just study it for a few months so you kind of understand le basi the basics if you just want to understand le basi kind of get your feet wet as we say in English just sort of feel what it's like that's fine so now I understand when someone says yeah I studied it for eight months I know it now which you never really finish knowing the language but I understand and then you decide to say okay on to Arabic I get it but the thing is for me the way that I have been handling language learning these past I don't know 15 16 years however long it's been my approach has always been get to the highest level you can get before moving on but I've now sort of eased that kind of personal pressure that I've put on myself to say it's okay as long as I can have a conversation and get by that's fine my one and only will always be Italian I always want to be as perfect as possible with Italian so have I been a little bit easier on myself that it doesn't have to be absolutely perfect yes but do I still want to speak Italian like an Italian a thousand percent a thousand percent do I need to speak French like a Frenchman that's right if I have a bit of an American or straniero accent it's all right what's the big deal but with Italian I don't want you to know I'm American at all I want to speak Italian so perfectly that you're like allora da quanto tempo da dove vieni in Italia I'll be like you know what I mean I want to be like that and that's fine we all have different things that we want to achieve with different languages so when people tell you you can learn a language in under a year are they lying no but it's not the full truth okay I learned I could say I learned Portuguese in seven to eight months is that true yes does that mean I could move to Brazil tomorrow and I'd have no problem I don't know it depends so the thing really is it depends on what you mean by that so maybe I'm a bit of a tropo literale maybe I'm too literal with these things where if someone says I speak a language I think you mean C2 so it really depends on how is someone defining this you know what I mean and so for me to speak a language has always meant I know if I know it like a native but I've come to learn that people are not that literal when they are speaking so and also now as I I feel like I've I'm pretty good with Portuguese I'm excited now to move on to the next language but what I was trying to get at before is what is my approach with learning languages I think this was one of my points I just want to make sure I didn't veer too far off track to veer off track means to andare verso un'altra direzione ma c'è questo il binario se vogliamo e se il treno va un po' così non è che stiamo sempre andando in questa direzione abbiamo scelto un'altra quindi devo stare attento ok so it's challenging to keep up all of the languages but as long as you put the work in and depending on to what extent you want to go to with the language you can do it quindi che vuol dire esattamente in italiano come sempre primo prima faccio la cosa in la traduzione in italiano e poi in inglese e questo è il mio ultimo punto da quanto ho capito dalla mia lista e poi risponderò alle vostre domande ai vostri commenti quindi grazie ragazzi per tutti i commenti li vedo adesso so dipende allora noi possiamo sempre continuare a studiare le lingue per me è la mia passione della mia vita questo ne sono sicuro di questo ne sono sicuro quindi io voglio sempre studiare le lingue è bellissimo scoprire il mondo tramite le lingue fantastico avere amici che vivono dappertutto bellissimo bellissima questa cosa però ho notato con lo studio di portoghese è difficile mantenere tutte queste amicizie nel senso se io voglio parlare con i miei amici ogni giorno quasi è difficile ogni minuto cambiare da italiano francese portoghese e poi inglese naturalmente è difficile quindi io devo decidere a volte allora oggi non posso rispondere a tutti questi messaggi in portoghese anche se mi dispiace non voglio che i miei amici stiano lì aspettandomi per molto tempo però oggi voglio focalizzarmi un pochettino di più su francese su italiano no quindi è un po' difficile così perché io studio le lingue in un senso sociale mi piace dire in a very social way mi piace dire perché per me le lingue bisognano essere parlate se si può dire così they need to be spoken però però dipende da come la vuoi parlare se vuoi solamente avere un livello scolastico di una lingua magari se avete studiato greco antico in liceo classico o qualcosa se volete se per voi va bene avere questa connotazione conoscenza ma va bene non vuol dire che dovete saper parlare greco perfettamente tradurre ogni testo ok quindi alcune lingue non non servono essere sempre parlate perché dipende da cosa vuoi fare con la lingua mentre per me io voglio parlare queste lingue veramente sapere dialogare no sapere spiegare le cose spiegare le mie emozioni ciò che penso di varie cose quindi è difficile però fare così quindi posso immaginarmi in una situazione in futuro dove forse studio una lingua per solo sapere fare traduzioni leggere alcune cose magari presentarmi e basta quindi non per forza usare la lingua produrre la lingua perché lo studio della lingua è due cose è un'attività passiva è anche attiva ok ad esempio se guardo qualcosa o metto un podcast sul mio computer cellulare non importa e io poi pulisco la stanza o io io non lo so mi lavo i denti che dire no se c'è l'italiano indietro non è che sto facendo lo studio attivo sto facendo lo studio passivo tanto quello che capita a me spesso come stamattina ho sentito una parola e poi ho pensato a dieci altre che voglio insegnare ai miei studenti quindi questo capita a me spesso però di solito metto una cosa al sottofondo e faccio gli affari miei che dire mentre se faccio una cosa più attiva vuol dire che sono qui seduto alla scrivania per guardare un programma un programma televisiva francese e io lo studio guardo penso ad ogni cosa che stanno dicendo cerco la traduzione così faccio lo studio attivo quindi magari ho solo l'interessa di fare lo studio passivo con una lingua magari mandarino mi dico ma sarebbe bello sapere un po il mandarino ma non è necessario parlarlo non è necessario andare in diversi posti visitare cina che dire no succede quindi dipende da te e questa è la cosa molto bella dello studio delle lingue che noi possiamo decidere cosa vogliamo fare con le lingue non dobbiamo sempre passare le ore a scrivere parlare fare queste cose dipende ma per me mi sono innamorato subito con i brasiliani sono delle persone fantastiche super aperte super amichevoli io dico ma cavolo mi piacciono molto queste persone fantastico sono molto come gli italiani certo sono di diversi però i brasiliani sono come gli italiani mi piacciono molto per questo è facile parlare con un brasiliano secondo me e grazie allo studio della lingua è ancora più facile quindi fammi fare la traduzione perché adesso la voce è un pochettino stanca so perché ho insegnato tutta questa mattina poi faccio la live di 50 minuti so basically it can be challenging to keep up your studies with all of the languages that you speak so for example i know a lot of students in italy study ancient greek and latin when they're in liceo particularly i know a lot of people if they go to a liceo classico you will study those languages there generally generally and so the thing is you may know how to translate a text perfectly from ancient greek into your native language into italian let's say so you can say that you know ancient greek but it doesn't mean that you can go out go to greece and start using modern greek with everybody but that's okay it still means you know the language you just know it on a scholarly more academic as we would say in English scholarly for us is a little more heightened academic is what we would say for a scholastico you know it more in an academic way which is great so the thing is for me my approach has always been knowing the languages to travel to the countries to make friends with the people that speak these languages and to talk to them on like a daily basis okay that is hard to do as I've come to see it is hard to divvy up your time to divvy up and it's a phrasal verb to divvy up your time to divide up your time it's challenging because if I have a group of messages from my french speaking friends my portuguese speaking friends my italian ones and then my english-speaking ones that's a lot of people to keep in touch with every day in different time zones different languages you know what I mean that's hard and so because I like using languages in a very social capacity because that's my favorite way to learn just by talking to people and just saying wait what does this mean what is it that you said you know so when in me trying to do that sometimes I have to sacrifice talking to some people to talk to others I have to say I'll get back to you tomorrow I'm really sorry I saw your message or I just don't even end up responding or I forget you know which for me is sad I wish it didn't have to be that way but we are only human okay we can't do everything we can't be in all play every in all places at once in every place at once I think is the expression so the thing is because I like to use it in a social capacity it's kind of hard to really keep it all up I've been doing okay but what happens is if I'm doing so much Portuguese one day I'm not doing French fortunately I have created a life for myself where Italian is always present whether I am choosing to listen to something in Italian or not it is always there so that's the benefit of making a language you're one and only you can create your whole life around it wonderful but have I created my whole life around French no have I created my whole life around Portuguese no so if I'm not choosing to hear these languages they will not be spoken around me okay so that is something that you sort of have to have to juggle with and so and it's okay I like that balancing act I like saying okay today I'm going to do a little more that today I'm going to do a little bit of this because if I'm doing too much on the same day the confusion that I will start having is I will want to say something like that instead of saying instead of saying which means that's different you know is different from saying is different from saying you know what I'm saying like it's hard then to take that that I'm using all the time and use it in Portuguese because I don't or it's difficult to take things like using word like in Portuguese and then trying to use it in Italian I would just say instead of whereas in Portuguese and also the pronunciation it's very very easy for me to take the Brazilian Portuguese pronunciation and translate it to Italian because if I say in Portuguese I tend to go more up and more nasal in Portuguese because we do that if I say like that means my mother is here minna mai minna mai okay a mania a mania means today no tomorrow a mania is tomorrow whereas when I'm speaking Italian I don't want to do that inflection too much and molto interessante you can do it maybe I sound more like I'm from Lombardia or something like that or Piemonte but that's not natural for me I say a molto interessante a molto interessante not a molto interessante you know what I mean and that's also the way I'm choosing to speak the people I'm emulating stuff like that but then when I'm speaking French forget it it's a lot flatter in French ok a little bit but that's a lot flatter see what I'm saying that's really interesting English is all over the place with our cadence but yeah I think I've made all my points guys what a fun video I hope you guys have enjoyed this as much as I have I'm going to take a look at some of your comments now so feel free to leave comments and I'll try to get to as many as I can but this is such a great topic guys I'm so happy I did this video hope you guys like the Huela sweatshirt and also the Huela mug like I mentioned at the top of this video at the start of this video Al Capo I'm shopping around for different vendors to see the quality that I like the quality I have now is pretty good it's a little bit on the thin side for my liking but yeah as soon as I find the right vendor these will be available for everybody but I'm just testing it out right now I'm testing the waters so let's take a look at some of your questions but that's pretty much all of my all of my stuff for today thank you guys very much for those of you that like my Italian accent lo prezzo molto grazie per i complimenti I see we have people here from all over the world that's wonderful excellent hello to everybody excellent yes I see some of you guys said you know Portuguese was easier than French I totally feel you excellent excellent wonderful very cool ton accent français est parfait mais merci Thomas merci moi j'aime bien la langue française hier j'ai parlé énormément en français et donc mais tu sais une chose quand j'imite si je peux dire ça quand je fais une imitation de quelqu'un je vois que mon accent devient beaucoup mieux ma prononciation en fait donc moi j'aime toujours travailler avec mes amis pour travailler sur la prononciation la prononciation est tellement important so basically what I love to do with my friends it's it's I don't know why I find it so crazy I don't know why because it's not that crazy but if you slowly work with your friends or a teacher whoever if you slowly say something and have someone imitate after you they can do it like it's I don't know why I find that so crazy I love doing it so I will read things with people and I'll be like okay let me repeat after you say it 10 times right and then I'm like and then I can get it and I'm like this is so cool like for example it's it's the little joys in life okay if I am driving in my car and I'm listening to to music in another language if I can never look at the like let's say I never look at the testo or the parole as we say in French or what do we say in Portuguese I can't remember I can't remember what we say in in Portuguese I just learned it but anyway if I never look at the lyrics and I can sing the song with the song like I can I can like oh I love this song and as I'm driving just mindlessly sing it with the music that is goals right there man that is like I have arrived so that's my favorite your pronunciation of Portuguese Brazilian is great thank you thank you Bruno thank you so as you can see I need a little time for to speak a language or not to speak a language so I can imitate if this word exists to use a pronúncia ótima because I like a lot of speaking Portuguese I think I use a pronúncia a little Italian so I speak like when I speak Portuguese I say hi gente tudo bem I'm good thank you I love this phrase in Portuguese because I love to use the expressions that everyone uses when we talk when we talk so let's 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 thank you Bruno thank you really great bravo c'est bluffant ah c'est fantastic merci por te compliment je jamais vu ce mot là bluffant c'est super je vais chercher je vais chercher la traduction après merci anche yo pienso yeah non è wow non è no non è non è molto difficile non è molto difficile parlare spagnol perché io parlo anche italiano tambien 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 italiano allora perché parlo avete visto come perché stavo parlando spagnolo è molto più facile fare questa spiegazione in italiano avete visto come funziona e anche se l'italiano non è la mia lingua madre avete visto perché le lingue si assomigliano quindi per spiegare quello che volevo dire mi è pensato immediatamente naturalmente di usare l'italiano e non sono qui per vantarmi ok però volevo dire perché parlo in portoghese adesso lo spagnolo diventa un po' più facile perché ad esempio se voglio dire tambien tambien che vuol dire anche in portoghese posso dire tambien però mi devo solo ricordare che non si dice eu per dire io che si dice in portoghese si dice io ok avete visto come funziona so yeah basically when I'm doing one language it's just it's an easier to go into a language that's more similar so that's why if you've seen me in any of my prior lives when I'm trying to go between French, Italian, and Portuguese French is the farthest one I can go to ok because that has the most different pronunciation between French and Italian believe it or not it's not that hard for me I can go from French to Italian pretty good I don't know what it is about Italian I mean French but I can go to it from Italian easily the moment I'm going into Portuguese forget it I need to leave French aside and go to it later that's what happens alright guys wonderful so I think I'm going to close up the live in a little bit thank you very much Louis I love this as well hopefully it will be available to everyone soon but but something that I like that you said Ava here is how there are words that are very similar in all of the languages that's very very helpful when we're studying it also helps you kind of invent words as well to make up words that's what I would more say in English invent is more inventare quello che penso in italiano it's easier to make up words when you when they're all similar right I have this one that I said in one of my videos I can't remember which one it is maybe it's an Italian it's a video I think where I'm wearing a red shirt and I'm talking about Italian expressions that I like like phrases of encouragement something like that no I don't actually I don't know what video it is anyway I said that I made up a word what is it it's inoubliable yeah inoubliable or inoubliable inoubliable is the word for indimenticabile in French indimenticabile means unforgettable because dimenticare means to forget indimenticabile is unforgettable okay so I wanted to say indimenticabile indimenticabile c'est indimenticabile ça n'existe pas that doesn't exist in French okay we say inoubliable inoubliable because oublier is to forget okay so dimenticare oublier different inoubliable okay there's that in in the beginning so I was somewhat there you know what I'm saying that's what happens with the mutually intelligible languages you can kind of be like okay oh inoubliable because that's the contrario that's the contraire right that's the opposite so yeah so like you said interessante I think interessante is how we say it in Spanish as well so Spanish and Italian interessante in Brazilian Portuguese interessante you could you could say interessante you can say that as well depending on your region and then we have what is the other language I think that's it oh interessant interessant that's a little different you know what I'm saying so we're going from interesting interessante interessante interessant okay a little different you know what I'm saying that's why French is the farthest from me but if I'm just going French in Italian I can do it because think about it we have the passato prossimo in Italian we have the passe compusé in French so if I say je suis allé là-bas hier je suis allé là-hier o hier je suis allé là-bas okay ieri sono andato lì non è difficilissimo fare questo scambio che dire questo cambio no non è no sto parlando ancora italiano non francese ma cosa posso dire in francese ce n'est pas trop difficile de faire cette différence no de changer de parler l'italian français ok parce que je dis je suis allé io sono andato on utilise je je suis che tanto vuol dire sono allé andato ok si je veux dire ça en portugais je crois que je dois dire eu fui là eu fui là ontem no ontem ontem eu fui là eu fui là ontem ok so what we do in portuguese or brazilian portuguese is what we do in spanish we use the pretérito in portuguese it's called the pretérito perfeito i think i think in portugal portuguese they do use the participio passato the past participle i think they use that verb tense too but in at least brazilian portuguese which is similar to latin american spanish in this respect we use a whole verb tense to conjugate the verb ok which is a little bit harder to do because now i need to memorize more conjugations it's easier just to say memorize the helping verb je suis tu es il est non è nous sommes vous êtes vous êtes right and il sont il sont yeah and then io sono tu sei lui è noi voi loro no noi siamo voi siete loro sono and then do the participio passato do the past participle that's easier for me ok whereas when i go into portuguese now and i need to say eu comi una pizza eu comi una pizza ontem con meus amigos so i ate a pizza we have to conjugate the verb in its own form not just ho mangiato je mange it's a lot easier to say mangiato mangi and just je mange ho mangiato but in portuguese i have to take comer and turn it into comi ok or if i say eu falei muito ontem ho parlato molto ieri je parlais beaucoup hier or hier je beaucoup parlais it's easier for me to do that than to go ontem ontem eu falei com meus amigos ok that's where i find the struggle and why i found portuguese harder in the beginning but anyway i think i'm done for today guys um thank you guys very much for all of your comments i really appreciate your compliments it's very very nice i appreciate it i love languages as you guys know i spend every day thinking about them and um and yeah it's always a pleasure to spend some time with you guys è sempre un piacere passare un po' di tempo con voi ragazzi mi fa piacere che ho potuto condividere queste mie idee oggi queste mie idee sì queste mie idee oggi perché è un argomento che mi piace molto volevo condividere cosa ne penso e quindi eccoci qua quindi vi auguro una buona giornata ragazzi have a great day guys always remember to spread the love e noi ci vediamo prestissimo dai alla prossima ragazzi ciao ciao ciao